Ciao e benvenuti nell'atelier dell'italiano. Io sono Valentina e oggi parliamo di saluti. Pour se saluer en italien on peut dire buongiorno, un saluto che va sempre bene, ma non dopo le 18 quando diciamo buonasera. Ciao è più informale, pur le relazioni amicali o familiali, ma possiamo utilizzarlo in ogni momento della giornata. Et après, qu'est-ce qu'on dit pour dire ça va? In italiano possiamo utilizzare come stai o come sta. Quelle è la differenza? La differenza è se utilizziamo tu, informale, come stai, comment vas-tu o lei, formale, come sta, comment allez-vous? Mais comment è-ce qu'on dit ça va? Je vous conseille en fait de retenire l'expression, car il n'y a pas de differenza entre formale et informale che deve utilizzare per tutto il mondo. Come va? Come va? E la risposta può essere Bene, grazie, benissimo. Insomma, così così o male. Je sais qu'en français on peut dire ça avec Ça va, ça va, ça va très bien. Mais en italien on a plusieurs réponses pour Come va? Attenzione a non confondere Come va con Come vai? Come vai? Non è utilizzato per salutare. Come vai? En fait signifie Come est-ce que tu vas Travail Come vai al lavoro En voiture, a velo Donc, è sempre il verbo andare Ma Come va la vita? Comment ça va ta vie, en fait? E come vai? C'est vraiment aller Come est-ce que tu vas quelque part? Encore une chose avant de terminer In Italia non è così comune Baciare le persone che incontriamo Ce que je veux dire C'est que On se fait pas la bise Quando diamo due baci Iniziamo dalla guancia destra E generalmente Lo facciamo solo con I membri della nostra famiglia O amici cari Des amis très proches O che non vediamo da molto tempo Dalla vie de tous les jours On peut peut-être donner un câlin Un abbraccio A nos amis O a un membre de notre famille Mais on ne fait absolument pas la bise A nos collègues Dunque in ufficio Diciamo solo Ciao Buongiorno O Diamo la mano Io spero che questo video sia utile Che vi sia piaciuto E lasciate un commento qui sotto Un like E iscrivetevi al canale Ciao Ciao